Antonella del Core, l'altra sera ci ha messo un po' paura, poi tutto sommato credo che l'infortunio non sia gravissimo per cui speriamo già di rivederla in campo domani. Questo non lo so, fortunatamente non è niente di grave, insomma giocandoci sopra la cavia è un po' dolorante, un po' goffia, vediamo come sarà domani. Un'analisi di questa seconda fase, l'Italia ci arriva con 7 punti che è un buon bottino, soltanto uno di distacco dalla prima che è la Cina e ha 4 partite di diverso livello, come la vedete? Direi che è assolutamente un buon bottino, credo che tutte le partite siano di alto livello, ovviamente con delle differenze e credo che anche chi ha meno punti ci darà filo da torce, dobbiamo stare molto attenti e concentrati partita per partita. Senti, che sensazione ti ha lasciato quest'inizio di mondiale, riguarda la squadra logicamente? Assolutamente buona, positiva, è un'Italia che c'è, che sa giocare, che si stringe nelle difficoltà, credo che l'abbiamo dimostrato ampiamente. Grazie. Grazie. Grazie.